Buonasera, siamo con il mister Loiarro, allenatore dell'US Giri Falco, mister, è arrivata finalmente una vittoria, quella che la società, tutti i giocatori, soprattutto lei, stava aspettando da molto tempo. Allora oggi abbiamo fatto bene, soprattutto come carattere, cosa che ci è mancata nelle precedenti partite, siamo stati sfortunati, infatti la vittoria doveva arrivare prima, oggi ce la siamo conquistata con i denti. Siamo con il capitano del caraffa, Maurizio D'Amico, capitano, purtroppo la squadra quest'oggi ha perso, come sai, è mancato ai giocatori per portare una vittoria. Più che altro, invece di, al mio avviso non è mancato nulla, è mancato un po' di rabbia, gli avversari sono stati più forti, più in gamba oggi, quindi è andata così, ogni partita è una storia a seconda, ormai in questo campionato non ci sono classiche. Sicuramente noi eravamo lì su, in settimana sicuramente si lavorerà tanto per ritornarci.